C'era una volta un bambino che per svegliarsi faceva sempre tante storie Ma un bel mattino Per colazione La mamma gli fa trovare qualcosa di ghiotto Un morbido bombolone con sopra lo zucchero a velo E ripieno di confettura Sveglia l'appetito del tuo bambino con le brioscine del mulino bianco Oggi ancora più fragranti con il nido scaldabontà del mattino E un regalo pensato per te per la prima colazione E puoi averlo con 40 tagliandi di merende e brioscine del mulino bianco Barilla